a vedere tutti questi ragazzini soprattutto quando si entrano quindi si sgranano gli occhi a me mi fa battere il cuore non so perché mi ricordo anch'io quando ero piccolo e vedevo i giocatori e pensavo che un giorno magari sarei potuto diventare come loro e questa cosa mi emoziona tutte le volte e quindi insomma sono felice di essere qua per voi perché a questo me ne ho conto io sono tanto attento quanto Lorenzo a guardare i bambini quando entrano con noi in campo perché veramente li vedi talmente impietriti, talmente emozionati che non riescono mai a svolgere i piccoli passi che devono fare quando entrano in campo con noi e io anche chiedo loro se si sentono emozionati anche per cercare di sciogliere la mia emozione perché io quando entro in campo sono sempre emozionato nei primi momenti grazie grazie grazie